Oggi il grande giorno è arrivato, al cinema esce The Batman di Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson nel ruolo dell'uomo pipistrello. Mentre voi state guardando questo video io sarò al cinema a vedere questo film e la mia recensione senza spoiler e con spoiler uscirà sabato al posto del video solito delle Tartaruga Ninja. Quindi oggi di cosa voglio parlare con voi? Ovviamente di Tartaruga Ninja, ma non mi scordo che c'è di mezzo anche Batman e quindi ecco a voi il crossover Batman e Tartaruga Ninja. Wabalabadab e bentornati, sono Mamamazzo, bentornati nella rubrica Tartaruga Ninja, nella rubrica Fumetti e nella rubrica DC Comics. In questo mese di marzo parlerò dei tre crossover che Batman ha avuto con le Tartaruga Ninja. Usciranno probabilmente i prossimi durante il sabato, ma in questo caso ho voluto riempire il vuoto della giornata dal momento che non ho visto Batman in anteprima, lo sto guardando in questo momento. Ho voluto riempire questo vuoto portandovi in anteprima il video tra Batman e le Tartaruga Ninja. E vi dico già che i crossover saranno tre. Oggi parleremo di questo crossover, poi ci sarà il secondo e poi ci sarà il terzo che io non ho ancora letto. La differenza per noi italiani è che il terzo è edito da Panini Comics, mentre gli altri due sono editi dalla RV Lion, che è la precedente casa di distribuzione, la casa editrice della DC Comics. Questo mi fa pensare che anche in America furono distribuiti dalla DC Comics. Eh sì, perché questo è un grosso evento che unisce due case editrici diverse anche negli Stati Uniti. Le Tartaruga Ninja sono dell'ADW, mentre la DC Comics è della DC Comics, ovviamente. In Italia le Tartaruga Ninja sono sempre state di Panini, la DC Comics era della RV Lion. Adesso invece qua in Italia siamo un po' più fortunati, perché sia le Tartaruga Ninja che la DC Comics sono entrambe sotto Panini. E non vedo l'ora di vedere cosa hanno fatto con questo terzo volume, ma a tempo debito. Adesso concentriamoci sul primo. Prima di cominciare, se ancora non lo avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o non mi piace a questo video, o anche a tutti gli altri, che vi frega di condividere il video con tutte le persone che amano sia Batman che le Tartaruga Ninja e non sono a conoscenza di questi crossover e di commentare qui sotto con quello che viene verso di questa storia, di questo riassunto, di questa recensione. Iscrivetevi anche agli altri miei social, tra cui Instagram e Twitch, in modo da poter rimanere aggiornati su tutto quello che faccio oltre a YouTube. Vi dico già che il 10 marzo farò una live spoiler in cui commenterò appunto The Batman e ci saranno degli ospiti, quindi seguitemi anche su Twitch. La cosa importante, interessantissima di questo crossover è che è in continuity, quantomeno è in continuity per quanto riguarda le Tartarughe Ninja. Ora non so bene dove si possa collocare nella continuity di Batman, ovviamente è ambientato, non so se nel New 52 o addirittura in Rinascita, ci sta che sia in continuity anche in The Batman, ma si nota meno. Mentre per quanto riguarda le Tartarughe Ninja che hanno all'attivo, il Tartarughe Ninja dell'ADW ovviamente, che hanno all'attivo ad oggi una cinquantina di numeri e che all'epoca se non sbaglio ne avevano attivi solo 30, è stato comunque strano vederle inserite in continuity e non essere una fugace apparizione di qualche strano universo. Invece sono in continuity perché hanno utilizzato il portale dimensionale, fondamentalmente il portale che utilizza il generale Krang per accedere alla dimensione X. Ci spiegano in questo numero, purtroppo, ecco, se devo trovare proprio una pecca ma è una stupidata, la RV Lion non ha spiegato in quale punto è collocato nella continuity delle Tartarughe Ninja questo numero, però lo posso anche capire dal momento che non era su interesse, dal momento che le Tartarughe Ninja erano pubblicate da Panini. Però so che è in continuity, dovrebbe essere, credo, attorno al numero 30 ma non vorrei sbagliarmi. Io penso che appena arriveremo al fumetto interessato, quando continuerò la mia retrospettiva, riusciremo a capire bene dove sarà collocato. Fatto sta che, come raccontano le Tartarughe Ninja stesse, durante una battaglia su Barno Island, Krang ha usato il portale che usa solitamente per andare nella dimensione X per teletrasportare sia le Tartarughe Ninja, sia Shredder e il clan del piede, entrambi nemici del generale Krang in questo contesto, perché Shredder e Krang non sono alleati nell'IDW, sono rivali. Il generale Krang ha usato il suo teleporter per teletrasportarli in una dimensione a caso, e la dimensione a caso è la realtà di Batman. Tant'è che noi vediamo le Tartarughe Ninja stesse che dicono che dove dovrebbero essere in questo momento, solitamente non ci dovrebbe essere nulla. E invece c'è Gotham City. Gotham City, vi ricordo, è una città immaginaria che dovrebbe essere all'incirco, cioè dovrebbe essere molto vicino a Detroit, ma comunque dovrebbe essere nel New Jersey. La bellezza di unire dei personaggi come le Tartarughe Ninja e il Cavaliere Oscuro, oltre ad avere delle tavole di cotanta fattura, di cotanta bellezza, tra l'altro con anche delle variant in bicromia spettacolari, e anche il fatto che hanno in comune comunque il ninjitsu, le arti marziali. Vi ricordo che nel mondo di Batman ci sono personaggi come Ra's al Ghul, la setta delle ombre, o la lega degli assassini, che dir si voglia. Batman stesso ha studiato arti marziali per anni, è un maestro del ninjitsu. Sia Batman che le Tartarughe Ninja usano l'invisibilità per scomparire dai propri nemici. E quindi Batman non è nuovo agli attacchi da parte di clan ninja sulla sua Gotham, sulla sua adorata Gotham, e quindi appena nota del trambusto in uno dei laboratori di Gotham, da parte appunto di un clan ninja, vuole subito capire con chi sta avendo a che fare, e si accorge subito che non sta avendo a che fare con la lega degli assassini, perché la lega degli assassini utilizza diversi stili di arti marziali, ma con un clan di veri e propri ninja, con uno stile ben preciso. Ovviamente è il clan del piede. Si usa la tecnica che abbiamo visto anche nel primo film sugli Avengers, dell'incontro-scontro, in cui Batman crede che le Tartarughe Ninja siano dalla parte del clan del piede, perché sente parlare nello stesso momento sia di furti da parte di ninja che di creature simili a delle Tartarughe, ma non si rende conto che il contesto che le detiene tutte assieme non sta a significare che siano comunque alleati le due fazioni. Quindi crede che siano le Tartarughe stesse ad aver compiuto questi furti in questi laboratori. In realtà ovviamente no, ovviamente è il clan del piede che sta cercando di, credo, costruire un portale per tornare nella propria dimensione, nella propria New York delle Tartarughe Ninja. È chiaro quindi che c'è un primo scontro, anche fisico, in cui tutte le quattro le Tartarughe Ninja si battono con il Cavaliero Oscuro, avendola peggio. Il Cavaliero Oscuro riesce a battere tutte le Tartarughe Ninja, ma si trova in uno scontro quasi alla pari con il maestro Splinter, che all'ultimo lancia una mina fumogena e si dilegua con la propria famiglia, senza però perdere di vista Batman. Segue Batman fino alla Batcaverna e persino riesce a scoprire l'identità di Batman, pensate, quindi il maestro Splinter supera il miglior detective del mondo, supera Batman in un fumetto fuori casa fondamentalmente. Quindi è un po' oltre forse la sospensione dell'incredulità a cui siamo abituati per quanto riguarda Batman e per quanto riguarda il maestro Splinter, però va bene così, diciamo, spiegano in questo modo un po' velocizzato come Splinter riesce a chiarificarsi con Batman, a chiarirsi, a far capire che loro sono dalla stessa parte, e questo permette appunto a Batman di conoscere le Tartarughe Ninja, di capire che sono alleate, che entrambi vogliono che il clan del piede se ne vada da Gotham City perché Shredder, mentre sta costruendo il portale per ritornare a New York, sta comunque facendo terra bruciata anche a Gotham. Ha usato il pinguino e le sue conoscenze e il suo denaro per allungare i suoi tentacoli anche su Gotham City. Il pinguino, inizialmente, che è un viscido uomo da fare, inizialmente ha contrattato con Shredder, ma ora ne è fondamentalmente il suo lacché, vuole uscire da questa collaborazione, ma Shredder non glielo permette, come se il clan del piede fosse una sorta di mafia ninja da cui non puoi uscire. Shredder è matto, totalmente, è volubile, cambia idea in continuazione, vuole addirittura tenere aperto il portale per riuscire a comandare sia New York sia Gotham City mettendo a rischio entrambe le dimensioni ed è per questo che il pinguino deciderà di tradire questa alleanza di comodo con Shredder facendo la spia al commissario Gordon. Nel frattempo tutte le tartarughe ninja si allenano nella Batcaverna insieme a Batman e Batman scopre un'orrenda realtà, ovvero che tutte le persone, le cose, gli esseri che sono venuti dalla dimensione delle tartarughe ninja alla dimensione di Batman, quindi alla dimensione in cui esiste Gotham City, hanno una frequenza delle radiazioni, se vogliamo, diverse da quelle presenti sulla terra di Batman, ma queste radiazioni tendono a sistemarsi, ad allinearsi con quelle della dimensione in cui sono arrivate. Per esempio Batman ruba un Sai a Raffaello nel loro primo scontro e fa esaminare il metallo del suo Sai e si rende conto che questo metallo inizialmente radioattivo tende a diventare inerte. Purtroppo questa cosa accadrà anche con il mutageno, che è una sostanza che nella realtà di Batman non esiste, quindi il mutageno che ha poteri enormi nella dimensione X e nella terra delle tartarughe ninja in questa dimensione non ha nessun potere e diventerà presto inerte. Questo significa che anche il mutageno che scorre nel sangue delle tartarughe ninja presto non avrà più potere, quindi le tartarughe ninja torneranno a essere delle tartarughine comuni e Splinter tornerà a essere un ratto. Quindi questa cosa diventa anche un po' una corsa contro il tempo, perché se non si sbrigano entro pochi giorni o poche settimane le tartarughe rischiano di non morire ma tornare a essere animaletti senza ricordarsi tutto quello che c'è stato. Tutte le tartarughe sembrano fidarsi di Batman tranne Raffaello che invece lo tratta con disprezzo, lo considera un riccone che si annoia e che passa le sue notti travestendosi da pipistrello per ammazzare il tempo, perché lui è talmente ricco che può scegliere di fare questa cosa e non sopporta tutto ciò, non sopporta che Batman scelga di fare questa vita mentre loro siano in un certo senso costretti dagli eventi a combattere sempre per la propria sopravvivenza perché sono sempre cacciati da Baxter Stockman, da Shredder, da Krang, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è un po' il rapporto più interessante che si crea all'interno di questa trama, di questo fumetto Batman si apre con Raffaello, gli fa fare un giro sulla Batmobile, lo porta a Crime Halley e gli racconta un po' la storia dei suoi genitori che chiaramente noi conosciamo, ma Raffaello non conosce. Gli mostra, gli racconta come dopo quello che gli è successo, dopo che la sua famiglia le è stata strappata a soli otto anni da un criminale qualunque, lui sì è vero può scegliere di fare quello che fa ma in un certo senso è costretto a farlo per evitare che quello che gli è successo succeda ad altre brave persone a Gotham. Quindi diciamo che Raffaello inizia a provare un po' di empatia per il Cavaliere Oscuro e come sempre accade, la tartaruga ninja più restia, più schiva nei confronti del nuovo alleato sarà poi quella che si affezionerà di più, tant'è che appunto nel finale Raffaello regalerà la propria bandana a Batman. Il tradimento del pinguino purtroppo non suscita l'effetto desiderato e Shredder, nonostante sia stato preso in una imboscata dalle tartarughe ninja e da Batman non si lascia trovare impreparato e fa saltare in aria il portale che aveva appena fatto costruire a uno scienziato di Gotham e ai membri del clan del piede. Negandosi per se stesso una via di fuga, ma tanto a lui non importa perché lui è un essere umano anzi, sapendo che le tartarughe ninja torneranno a essere delle tartarughine e Splinter tornerà a essere un ratto sa che in qualunque modo lui comunque vincerà perché se non le uccide per propria mano sarà questa dimensione ad ucciderle. Mentre scappa da Batman e dalle tartarughe ninja viene accolto da un elicottero che non è più in possesso del clan del piede ma è in possesso proprio dalla Lega degli Assassini proprio perché Ras al Ghul è venuto a sapere che c'è un clan di ninja a Gotham e non può tollerare che non ci sia anche la Lega degli Assassini di mezzo ma nasce una sorta di alleanza di comodo tra questi due condottieri, tra questi due combattenti ninja senza scrupoli e Ras al Ghul trova in Shredder il possibile erede che inizialmente aveva visto in Batman ma che ormai, si sa, non reputa più degno di prendere il ruolo della Setta delle Ombre quindi in un certo senso Shredder diventa il futuro della Setta delle Ombre e c'è questa alleanza tra la Setta delle... scusate continuo a chiamarla Lega degli Assassini e Setta delle Ombre ma intendo dire il clan di Ras al Ghul, tra il clan di Ras al Ghul e il clan del piede fondamentalmente Ras al Ghul vorrà radere al suolo Gotham, poi vi spiego come e lasciandola governare poi a Shredder, governare e ricreare a Shredder e la Lega degli Assassini si occuperà del resto del mondo o qualcosa del genere come soggiogheranno Gotham? Purtroppo con un aiuto che viene da un'altra dimensione ecco questa cosa l'ho trovata un filino forzata un Casey Jones che attraversa varie dimensioni con cinque fusti di mutageno puro quindi con un fusto di mutageno per ogni personaggio quindi per le quattro tartarughe e per Splinter per appunto cercare di salvarli da questa inerzia del mutageno su questa dimensione quindi presumo che il suo piano fosse portare il mutageno fresco a Gotham e darlo a cadenza regolare alle tartarughe ninja e a Splinter finché non sarebbero riusciti a tornare indietro purtroppo quando arriva nella dimensione di Batman viene assalito da Ras al Ghul e da Shredder che rubano il mutageno e lo usano su tutti i pazienti di Arkham ecco a un certo punto nella quarta parte diciamo di questo fumetto prende un'impennata davvero un po' tresciosa che io mi sarei risparmiato quantomeno mi sarei tenuto per fumetti futuri però posso anche capire che quando fai una run di questo tipo non sai se può avere successo o meno e quindi ti giochi tutte le cartucce subito in questo caso ha avuto successo quindi poi negli altri due numeri vedremo altre cose ma qui nel finale di questa run fumettistica di questi quattro numeri Shredder e Ras al Ghul hanno infettato in un certo senso con il mutageno tutti i pazienti di Arkham non si spiega come ogni paziente abbia assunto l'aspetto di un animale senza venirci a contatto però vediamo fondamentalmente Harley Quinn che ha preso l'aspetto di una iena il Joker ha preso l'aspetto di un serpente il pinguino ha preso l'aspetto di un pinguino Mr. Freeze ha preso l'aspetto di un orso polare Poison Ivy ha preso l'aspetto di un'amantide religiosa vi dico già che Killer Croc non era ad Arkham era se visto all'inizio sarebbe stato figo vedere se Killer Croc con il mutageno magari sarebbe tornato a essere un po' più umano vi vorrei far vedere anche una tavola dove mostrano un pochino tutti questi pazzoidi eccoli qua si vede anche lo spaventapasseri che è una specie di corvaccio e Bain che è diventato una sorta di elefante il cappellaio matto ovviamente è diventato un bianconiglio e così via e abbiamo anche due facce che è uno strano scimpanzè e ecco è l'enigmista che è diventato una volpe ovviamente anche Joker ha il suo momento di gloria e quando ha uno scontro testa a testa con Batman non gli nega che non vede l'ora dopo che avrà avvelenato con il suo nuovo veleno nei suoi denti da cobra da serpente velenoso non vede l'ora di avvelenare dopo che avrà avvelenato Batman di avvelenare anche Shredder e Rasal Ghul e prendere il potere che ha appena ottenuto ovviamente tutti i detenuti di Arkham non sanno che questo mutageno presto svanirà dalle loro vene e quindi si sentono tutti chi più chi meno si sentono o super forti super immortali oppure ci sono persone molto arrabbiate come Poison Ivy che sono state tramutate in modo orrendo e vogliono vendicarsi per qualche ragione su Batman la cosa migliore dal punto di vista di queste inimicizie di questi scontri invece è vedere come Batman si scontri spesso contro Shredder quindi non con i suoi nemici classici che invece verranno sfidati appunto dalle tartaruga ninja ma questa è l'occasione anche per vedere Batman testa a testa con un nemico potente come Shredder perché è un avversario davvero interessante per Batman è un avversario che probabilmente ha le stesse doti di Batman dal punto di vista del combattimento del ninjitsu ma è senza scrupoli è molto bello vedere Shredder come nemico di Batman in questo contesto inutile dire che i nostri eroi avranno la meglio Batman si farà aiutare da un nuovo costume super tecnologico in cui avrà la meglio con Shredder le tartarughe ninja riusciranno a battere Ra's al Ghul e Splinter e Robin Damian Wayne si occuperanno di tutti i vari detenuti tenendoli a bada e tramortendoli siamo agli sgoccioli il tempo sta per finire quindi non appena hanno risolto la situazione hanno preso Shredder e lo hanno legato e imbavagliato se lo sono riportati nella propria dimensione e si conclude così il primo crossover tra Batman e le tartaruga ninja di cui il successo è stato talmente forte che ci hanno anche fatto un film animato della DC Comics che se riesco ve lo metto qua sotto in descrizione film animato della DC Comics che vi dico subito io non ho visto perché non ne sento il bisogno nel senso che mi ha soddisfatto talmente tanto l'opera cartacea anche dal punto di vista dei disegni che sono molto più belli rispetto all'opera animata che non ho avuto l'impulso la voglia di vedere il film di Batman con le tartaruga ninja però se voi l'avete visto fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate se avete visto sia il film animato che letto il fumetto fatemi sapere cosa ne pensate di entrambe le opere noi ci vediamo settimana prossima con il prossimo crossover e ci vediamo invece sabato per quanto riguarda la mia recensione su The Batman grazie per avermi seguito fino a qui e con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti